Si chiama Fatti un regalo, la campagna di avvento 2020 promossa dalla Caritas di Pesaro, progetto che prende il via dopo il grande impegno dell'Associazione per realizzare il Fondo Emergenza Lavoro. Proprio nella promozione di questo cammino che ci porta a Natale abbiamo detto insieme perché sia un buon Natale per tutti. E quindi mi permetto di dire che sia un cammino nella logica della fraternità. Siamo una grande famiglia e come grande famiglia dobbiamo, come ci suggerisce il Papa anche nell'ultima enciclica, dobbiamo lavorare per crescere insieme, per abbracciarci insieme, per prenderci cura e carico gli uni degli altri. E quindi lo spirito con cui affrontiamo e presentiamo anche delle iniziative concrete è questo spirito per crescere nella cultura della solidarietà e della fraternità. L'analisi degli ultimi dati raccolti e gli incontri con le persone che tutti i giorni arrivano al centro d'ascolto diocesano hanno fatto sì che l'Associazione pensasse a quattro progetti da proporre durante questo periodo di avvento e per i quali cerca il massimo sostegno da parte di tutta la cittadinanza. Il primo progetto è quello in cui chiediamo alla cittadinanza di sostenere Casa Tabanelli. È un progetto di lunga accoglienza per i senza fissa dimora. Prende il nome da Eros che ci ha lasciato durante la pandemia ed è il più grande finanziatore di questo progetto. Con 20 euro ci aiuta una persona a dormire e mangiare per almeno una notte presso la nostra casa d'accoglienza. Il secondo progetto molto importante è quello di sostenere il nostro ambulatorio Caritas. Abbiamo stimato che con una cifra intorno ai 30 euro le attività dell'ambulatorio vengono mantenute almeno per un giorno. Parliamo di un ambulatorio frequentato da medici e infermieri volontari che incontrano le persone senza fissa dimora per cui la tutela sanitaria non è assolutamente gratuita nel nostro territorio. Il terzo progetto è quello della mensa. Chiaramente è la mensa che tutti noi conosciamo che ad oggi offre 70 pasti circa ogni giorno per cui chiediamo anche alla città di farsene carico in quanto proprio membri di una comunità. L'ultimo progetto è quello di tutela dalle famiglie con i minorenni presenti. Anche nell'ultimo progetto che abbiamo fatto abbiamo trovato una grandissima maggioranza di famiglie che si rivolgono a Caritas con figli minori a carico. È un progetto che richiede un intervento più sostanzioso. Chiediamo 100 euro per sostenere le spese sia per quanto riguarda i bambini più piccoli, quindi i pannolini emogenizzati, sia anche gli adolescenti in questo momento importante per sostenere la loro crescita anche in questo momento di grande difficoltà. Progetti che possono essere sostenuti dalla cittadinanza quindi in che modo? La prima cosa sicuramente è quella di chiamarci e rendersi disponibili anche a venire a vedere con i loro occhi anche per poter fare qualcosa. La seconda, anche se un po' più venale, però anche un po' più reale, è quella di poter fare un bonifico a Caritas andando sul nostro sito, guardando il progetto che più uno si sente anche per sé e aiutarci anche finanziandolo.